Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo sentito tutti parlare di difesa aerea che è la prima missione della Forza Armata che è stata fatta anche nell'anno del centenario non solo in Italia ma in Montenegro, Albania, Slovenia, non solo ma in Romania, nei paesi baltici. Quindi è un uomo che ha una responsabilità enorme di 40.000 uomini e donne in azzurro e che garantisce quella sicurezza di cui abbiamo parlato. Comandante, in estrema sintesi oggi abbiamo riflettuto e approfondito l'importanza dello spazio aereo allargato dell'Unione Europea. Come sia importante preservarlo e quindi renderlo sicuro. Il generale Gabellini, il tuo comandante delle operazioni aerospaziali, ci ha, penso, illustrato molto chiaramente anche ai ragazzi di vasto che cosa vuol dire difesa aerea nato nazionale in tempo di pace e in tempo di crisi. Ne abbiamo guardato l'aspetto normativo, l'aspetto di dualità ovviamente con il mondo civile sia da un punto di vista del governo italiano sia da un punto di vista dell'industria. E abbiamo capito che ha una rilevanza ovviamente enorme attualmente per il paese, sicuramente per la sua evoluzione e quindi va difeso e va preservato. Se mi posso permettere, da te ci piacerebbe sentire qual è la vision di chi, come abbiamo imparato oggi, ha la Military Aviation Authority. Quindi la legge ti dà questa grande responsabilità, non solo della missione della Forza Armata, ma di garantire per il paese questo bene della comunità. Grazie, comandante. Mi metto sul piedistallo perché sono corto e quindi scusate, ma io più di questo non posso, mia madre mi ha detto basta così, poi mi ha tagliato in due perché sono gemello e quindi abbiamo fatto già abbastanza. Grazie, no, innanzitutto ringrazio te Giovanni, ringrazio il CESMA e tutti quanti gli amici che sono qui oggi per questo convegno. Sembra una banalità, però è uno degli argomenti più importanti in assoluto che è di interesse preeminente della Forza Armata, per moltissimi motivi. Voi avete visto oggi una serie di interventi tecnici corroborati non soltanto da una presenza militare, ma anche da una presenza di colleghi e amici, soprattutto amici sia dell'ENAC che dell'ENAV che dell'industria. Perché? Perché lo spazio aereo non ha confini, cioè mentre in uno Stato possiamo mettere un recinto e possiamo dire tu di qua non passi, noi per aria non possiamo mettere cancelli, non possiamo mettere recinti. Per cui dobbiamo trovare un sistema per controllare quello che succede o per continuare a fare quello che vogliamo fare. Ci sono quelli che spesso sentite parlare, mi riferisco ai ragazzi, degli interessi nazionali, no? Cosa interessa al Paese? Ecco, ci sono determinate cose che al Paese servono necessariamente e a cui non possiamo rinunciare che è la nostra sovranità. Per prima, noi facciamo parte, siamo uno Stato e questo Stato ha una sua sovranità, ha una sua responsabilità sul terreno, ha una sua responsabilità sul mare, ha una sua responsabilità in tutto quello che è, da un centimetro fino all'infinito. Ecco, questa responsabilità da un centimetro fino all'infinito compete all'aeronautica militare. Ha un compito per legge, quella di garantire la sicurezza e la difesa del nostro territorio. Non facciamo solo questo, lo facciamo anche con stati viciniori che magari non hanno le stesse capacità nostre o lo facciamo con stati che hanno più o meno la stessa capacità nostra, lo facciamo per reciprocità. Queste sono delle cose fondamentali. Ma perché dico questo? Perché se tutto andasse bene in questo mondo non ci sarebbero guerre, non ci sarebbero conflitti, non ci sarebbero crisi. E quindi potremmo tranquillamente tutti quanti noi il sabato andarci a prendere lo sprizzo, andarci a una passeggio, prendere l'aeroplano, andare da destra a sinistra senza problemi, passare per andare in Giappone per la Russia, o passare per l'Iran, o passare per altri paesi. Ecco, peccato che questo è un'utopia, questo è un qualche cosa che ci svegliamo alla mattina e diciamo non è il momento, non è la situazione attuale. Per cui dobbiamo comunque continuare a andare in Giappone, viaggiare per il mondo, consentire a voi di prendere uno sprizzo. E quindi abbiamo un sistema di difesa che ci consente di fare questo. Un sistema di allarme, un sistema di attenzione, fatto di reti radar, fatto di ragazzi e ragazze che regolarmente, tutti i santi giorni, sono lì che controllano quello che succede, compreso Natale, compreso Capodanno, compreso Ferragosto, compreso le feste comandate, per consentire a tutti quanti di poter fare quello che vogliono in più la libertà, perché siamo un paese democratico che ama la propria libertà. Però quando ci sono determinate situazioni di crisi, noi dobbiamo essere pronti a sistemare la gestione dello spazio aereo per consentire all'economia, per consentire alla quotidianità di poter continuare a operare. Ecco perché ci serve il rapporto, è un dialogo con l'ENAV e con l'ENAV, ecco perché le industrie ci devono fornire degli strumenti in grado di poter controllare, anche in maniera discreta, lo spazio aereo, senza andare a darvi troppo fastidio. Ve la faccio proprio breve, breve, breve per voi ragazzi. Vi faccio un esempio, quando c'è stata la guerra nei Balcani, quando c'è stata la guerra nei Balcani c'erano dei velivoli che andavano avanti e indietro con dell'armamento, perché ovviamente stavamo facendo un certo tipo di attività, ma contemporaneamente i voli commerciali non sono stati fermati. Le aerovie, le nostre autostrade del cielo, anziché passare sull'Adriatico, sono state spostate sull'Apennino. Questo siamo stati in grado di poterlo fare grazie alla collaborazione con l'ENAV e con l'ENAV. Quindi non abbiamo intaccato la continuità della nostra esistenza, il nostro quotidiano operale. Abbiamo soltanto spostato il percorso, queste autostrade, per consentire a tutti i voli commerciali di continuare a operare. Perché comunque, come ha detto il generale Gabbellini, noi sappiamo esattamente chi fa cosa e dove nel cielo. Perché, ripeto, non ci sono i confini. Abbiamo spostato questa sorta di buffer, mettendo un recinto virtuale. Così lo stiamo facendo in Ucraina. Mi sareste domandati, guardo sempre là dietro, come mai noi siamo in grado di poter dare una mano agli ucraini a poter combattere per la loro esistenza, per la loro libertà, nei confronti di un Stato come quello russo che ha invaso lo Stato ucraino. Una delle prime cose che normalmente si fa, si prende e si occupa allo spazio aereo per consentire poi a tutti quelli che stanno per terra e per mare di continuare a fare il proprio mestiere. Quindi il nostro compito primario era quello, cerchiamo di non far entrare i russi nello spazio aereo ucraino. Ma neanche noi possiamo andarci, perché noi siamo membri di un'organizzazione che si chiama NATO, che è un'organizzazione difensiva, che non è in guerra con la Russia. Quindi capito effettivamente il problema è abbastanza complicato. Dobbiamo fare in maniera tale che non essendoci ci siamo. Non essendoci dobbiamo mettere dei sistemi radar satellitari di sorveglianza in maniera tale che il popolo ucraino sia informato dell'arrivo degli aeroplani dei russi. Questo è un lavoro complesso che richiede tecnologia, richiede conoscenza dei sistemi dello spazio aereo e un'armonia, un rapporto molto stretto con le agenzie del traffico aereo commerciale. Questo ha consentito all'Ucraina di sopravvivere in questi due anni, di poter combattere armi pari con l'invasore. Capite effettivamente che questa attività è decisamente importante. Lo facciamo anche per le calamità naturali. Quando, come è capitato nel caso dell'alluvione nell'Emilia Romagna, serve dare una mano per andare a trovare sollievo, a dare aiuto alla popolazione colpita dall'alluvione, noi ovviamente dobbiamo creare delle aree e degli spazi aerei dove gli elicotteri possono tranquillamente andare a lavorare per andare a recuperare la gente che magari è sopra i tetti o sopra gli alberi, come è successo, senza dover pensare che ci sono altri aerei commerciali o altra gente che va avanti e indietro. Quindi la gestione dello spazio aereo anche lì è fondamentale. Stessa cosa vale per i velivoli senza pilota. Oggi come oggi voi sentite parlare di droni. Andate da Ikea, vi comprate il drone, da Nascente Commerciale vi comprate il mini drone. Poi molti di voi, sono sicuro, la maggior parte di voi prende questo drone e diceva Andiamo a vedere dove lo posso impiegare. Nel momento andate a cercare i prati. Vicino ai prati ci sono gli aeroporti. O ci sono le discariche o ci sono gli aeroporti. Le discariche personalmente non mi interessa, no? Ci sono i gabbiani. Ma vicino agli aeroporti quel drone, quel mini drone, se non è controllato, dà fastidio agli aeroplani che decollano a terra. Quindi state bene attenti dove vi andate a divertirvi. Perché ve lo tiriamo giù. E mi dispiace. Poi riandate nel centro commerciale, lo andate a ricomprare e ve lo ritiriamo giù. Perché se non ci credete provate. Non lo fate veramente. Perché poi io chiamo i vostri genitori. Ma continuate a dare i soldi per comprare sta roba? Perché vi ridiamo i pezzi. Perché ci sono delle situazioni che non possono essere accettate. Capite perfettamente. Vi faccio un esempio. Uno dei vostri amici in Inghilterra, e vi prego di non fare le stesse cose, ha preso un drone e l'ha fatto volare su Itro. Itro è il fiumicino di Londra. È l'aeroporto internazionale di Londra. È come se voi prendeste questo drone e decideste di andare in giro sulla pista di fiumicino. Capite che qualcuno si arrabbia. Non soltanto quello che non atterra, ma anche quello che ha la proprietà dell'aeroplano, che deve andare da un'altra parte. Deve poi prendere queste persone che sono atterrate in un alternato, dargli un pullman, portarli a casa. E sono tutti arrabbiati. Quindi è meglio sparire. Un drone che ha fermato Itro praticamente ha creato un danno di circa 4 milioni di euro. Ce l'avete? Quindi, divertitevi con i droni. Ma state lontano dagli aeroporti. Molto lontano dagli aeroporti. E vi prego veramente di non farlo. Non cercate di emulare questi idioti. Perché veramente è un problema. Noi però abbiamo un'altra possibilità. Noi pure abbiamo i droni. Sono diversi. Non sono i droni da divertimento. Sono droni che fanno attività di sorveglianza, ricerca. Perché lo spazio aereo, lo ripeto, è una responsabilità nazionale. Per cui noi, grazie all'ENAV e all'ENAC, insieme a loro, abbiamo generato dei corridoi o delle procedure che consentano in Italia, unico paese allo stato attuale in grado di poterlo fare, di poter volare tranquillamente con velivoli pilotati e velivoli non pilotati. Come lo facciamo? Con la regola del Papa. Quando il Papa vola, tutti sanno che lì sopra c'è il Papa. Quindi noi diciamo, state lontano dall'aeroplano del Papa. State lontano dall'aeroplano dell'elicottero del Papa. Lo fanno anche i reali inglesi. Quando il re inglese si muove, emette un avviso che nel gergo si chiama NOTAM, Notice to Airmen, ovvero informazione a tutti quelli che volano, sappiate che questo giorno, il 7 di dicembre, dalle 10 a mezzogiorno, il Papa o il re d'Inghilterra parte da Londra nel caso e va a Edimburgo. Quindi questa è la rotta. State lontano da lì. Per essere certi, pitturano la coda di questo elicottero di rosso. Noi abbiamo il Papa di bianco. Quindi quando vedete un elicottero bianco, state lontano. Perché c'è il Papa a bordo. E quindi noi che cosa facciamo? Usiamo la stessa tecnica con i velivoli senza pilota. Noi mandiamo un avviso a tutti quanti e diciamo da quest'ora a quest'ora a questo giorno questo velivolo senza pilota volerà da qui a qui. Può servire per la protezione in caso di grossi eventi, il G7, il G20, il decesso del Papa. L'abbiamo fatto quando è morto Giovanni Paolo II. Quando abbiamo fatto il morto Giovanni Paolo II avevamo chiuso lo spazio aereo perché ovviamente c'erano tantissimi capi di Stato presenti su Roma e quindi dobbiamo garantire la sicurezza. L'abbiamo fatto per i grandi eventi. Quando la Juve vince lo Scudetto, per dire quando il Napoli perde la partita. No, scherzo. Facciamo questo controllo. Quanta gente è della Lazio di voi? Nessuno, no? Ecco, quelli lasciate ripetere. Voi di che partita di cosa siete? Là dietro. Eh? Inter lasciamo perdere. Napoli, c'è qualcuno del Napoli? No, è che... No, a Milano è. Allora, al di là di questo, copriamo lo spazio aereo. Quindi consentiamo praticamente a questo drone di volare. Tutti gli altri velivoli, quelli che sono pilotati, di fatto sanno che quel velivolo è senza pilota e stanno alla larga. Questo consente nel nostro spazio aereo di poter volare tranquillamente con i droni e senza droni. Dovunque. Quindi capito effettivamente che lo spazio aereo rappresenta una realtà molto complessa, anche se è impercettibile, non si vede. Ma dentro questa bolla di aria ci sono tante regole che devono essere gestite, devono essere messe in atto e devono essere controllate. Non tanto perché ci piace fare i vigili, ma perché se controlliamo tutto quello che succede nello spazio aereo siamo in grado di poter garantire la nostra sovranità. In Europa questo è ancora più complesso, perché noi abbiamo la fortuna di essere in una penisola, quindi abbiamo anche il mare che ci dà una grossa mano e nel mare normalmente non ci sono le città. Quindi gli aeroporti sono confinati sul nostro territorio, ma avendo il mare noi possiamo mettere le aerovie e utilizzare questi spazi aerei per poter fare esercitazioni, attività o per far andare avanti e indietro gli aeroplani commerciali. In Europa la situazione è un po' più complicata, perché c'è poca acqua e soprattutto negli stati continentali il traffico aereo è abbastanza congestionato, per cui non ci sono aree addestrative per noi, per i militari. E allora quello che cosa facciamo? Ci mettiamo d'accordo con la componente civile per rendere permeabile questo spazio, non so se ne hanno parlato. Questa permeabilità consente di poter tranquillamente usare questo spazio aereo europeo per le esigenze di tutti, basta metterci d'accordo. Come lo facciamo? Noi lo facciamo da tantissimi anni. Nella stessa stanza dove c'è il controllore del traffico aereo civile, abbiamo il controllore del traffico aereo militare. Nella stessa stanza e in alcuni casi, correggetemi se sbaglio, sono seduti uno fianco all'altro. Uno ha una frequenza dove ci sono i pelivoli militari e l'altro ha una frequenza dove ci sono i pelivoli commerciali. Ogni tanto capita che i pelivoli militari vanno nelle aerovie e passano nelle frequenze dei pelivoli commerciali. Se non c'è nessuno che va in una certa zona e magari ci sono dei voli dell'Ita o della Lufthansa che da Dublino devono vedere in Italia, possono avere un ordine di andare direttamente a atterrare sugli aeroporti primari. Questo consente di arrivare prima o di recuperare ritardi e di non consumare tanto da carburante. Stessa cosa vale per i pelivoli militari. Se io devo partire da Treviso, in una base militare di Treviso, e devo andare in Sardegna, magari devo fare una rotta zigzag. Se invece non ci sono traffici commerciali in zona, posso andare diretto, faccio le mie esercitazioni e torno indietro. Ecco, questo è il motivo per cui noi teniamo molto a questo spazio aereo. Lo spazio europeo è talmente congestionato che va gestito e va gestito in maniera comune con tutti quanti, attraverso l'utilizzo della tecnologia, ma soprattutto attraverso la comprensione di quelle che sono le esigenze militari da quelle che sono le esigenze commerciali. In maniera tale da trovare una formula comune per portare a casa comunque i nostri obiettivi. Da punto di vista fisico, l'atmosfera, mano a mano che si sale, si dirada. Quindi abbiamo necessità di volare con rotte, magari un po' più lontane uno dall'altro, a meno che non abbiamo dei sistemi di bordo che consentano di volare in maniera ravvicinata. Questo lo facciamo perché ci sono anche i satelliti, spesso e volentieri, e quindi attraverso i satelliti riusciamo a gestire maggiormente determinate informazioni, le informazioni di rotta. Quindi la tecnologia e le industrie che sono associate a questo segmento, a questo settore, sono molto importanti. Ecco perché il dialogo è importante, ecco perché questo incontro di oggi vede non soltanto i militari, ma anche i civili e le industrie insieme. Perché attraverso di noi, attraverso questo dialogo, ognuno sa quali sono le esigenze dell'altro e le industrie, con la propria parte di ingegneristica, riesce a costruire degli strumenti in grado di poterci dare una mano per risolvere questi problemi. Questo più o meno è il mondo dello spazio aereo europeo. Qual è la nostra visione in questo momento? Continuare a lavorare in questo segmento nel settore aerospaziale, ovvero tutto quello che riguarda l'atmosfera. Ma l'aeronautia militare è proiettata anche nello spazio. Il nostro futuro si sta espandendo. Le minacce non vengono più soltanto dall'atmosfera, arrivano anche dal di fuori dell'atmosfera. Se guardate i giornali, i social, spesso si sente parlare di missili ipersonici, di voli suborbitali, satellite che illumina altri satelliti. Quindi capito effettivamente, se uno ha una responsabilità per legge della sicurezza e difesa dello spazio aereo e le minacce vengono al di sopra di questo spazio aereo, deve necessariamente cominciare a pensare come operare lassù. Perché non è facile. si lavora in assenza di gravità, i costi per poter fare certe cose con le parti sono decisamente elevati e i risultati devono essere certi, perché altrimenti bisogna ritornarci su e non si torna su ogni giorno. Vi faccio solo un esempio. Dopo l'ultimo incidente dello shuttle, gli Stati Uniti avevano deciso di non utilizzare più i velivoli per andare sull'ISS, la stazione spaziale, che gira intorno alla Terra. Non avendo nessuna piattaforma in grado di poter fare questa attività, si erano appoggiati i russi e attraverso dei razzi utilizzavano questi razzi in comunione con i russi per andare sulla stazione spaziale. Capito effettivamente che con la guerra in Ucraina qualche rapporto tra russi e americani si è rotto. Se non fosse stato per Elon Musk un visionario tanti soldi che si è impelagato in un'avventura creando una società che si chiama SpaceX per cui ha generato dei razzi in grado di decollare e di riatterrare, quindi sono riutilizzabili, oggi gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di poter andare sull'ISS. Per ovvi motivi. Capite perfettamente come è importante avere l'accesso allo spazio per una nazione che ha degli obiettivi anche strategici. Capite effettivamente che qualsiasi nazione deve necessariamente o avere un autonomo accesso allo spazio sia i mezzi e sia anche le capacità economiche per farlo o si deve appoggiare a consorsi tra amici per poter compensare la carenza dei mezzi e dei soldi che gli mancano per poter mettere le forze insieme e poterlo fare. Noi in Europa lo facciamo regolarmente con l'Agenzia Spaziale Europea noi abbiamo un'agenzia che si chiama ASI che sovrintende questa attività e attraverso un'attività di sinergia con loro cerchiamo di sviluppare programmi europei in grado di poter avere un autonomo accesso allo spazio perché oggi magari siamo amici degli americani magari domani non siamo amici degli americani ci chiudono il rubinetto non ci possiamo andare quindi mai avere soltanto un'opzione bisogna averne più di una ecco la nostra visione è quella di avere un autonomo accesso allo spazio abbiamo le capacità per farlo abbiamo i mezzi per farlo e le risorse non sono mai un problema se c'è dal punto di vista politico un desiderio di poter fare certe cose noi avevamo una stazione di lancio che si chiama Malindi in Kenya che per molti anni poi è stata abbandonata per molti motivi forse è il caso di ripensarci perché non si può mai sapere è là è sempre stata là noi eravamo il terzo paese il terzo paese che ha lanciato un satellite nello spazio poi ci siamo un po' dimenticati questa possibilità adesso c'è di nuovo questa opportunità e allora forse è il caso di andare a rivedere come lavorare nello spazio un'altra cosa che noi stiamo facendo sempre parlando di spazio siamo entrati nel mondo dei voli suborbitali se avete visto noi recentemente a giugno abbiamo mandato un ingegnere, un medico e un ricercatore del CNR a bordo di una astronavi piccolina della Virgin Galactic che è decollata è andata a una certa quota ha sparato questo razzo che è andato a circa 80 km di quota e poi balisticamente riatterrata per quale motivo? per capire come l'uomo si comporta quando passa da gravità ad assenza di gravità e a gravità nell'arco di pochi minuti la differenza è quando si vola sull'ISS si decolla si va in assenza di gravità e si sta là per tre mesi per cui i liquidi e il corpo umano rimane in condizione di quiete tra virgolette perché la condizione di assenza di gravità è quella sempre tutti i giorni diverso è quando questi liquidi il sangue è un liquido comincia a circolare da tutte le parti senza criterio perché è in assenza di gravità e poi a tutto un tratto dopo un paio di minuti ritorna a essere pesante quindi quali sono gli effetti sul cervello gli effetti sui polmoni gli effetti sul corpo umano dovuto a questo fenomeno ecco noi su questo stiamo investendo è un altro argomento che noi stiamo facendo perché riguarda lo spazio aereo? perché oggi noi stiamo facendo ricerche in questo settore e noi per tradizione proprio grazie ai cento anni dobbiamo essere precursori di queste attività domani molti di voi andranno dagli Stati Uniti all'Europa non prendendo più un aeroplano di linea prendendo questi voli suborbitali perché arriverà la solita compagnia a Locost che attraverso pochi spiccioli vi consentirà in tre quarti d'ora di arrivare in Europa partendo da Washington perché tre quarti d'ora ci vogliono capite quanto è quanto quanto è importante essere presenti in questo settore e quando questi voli cominceranno ad andare avanti indietro ecco che ritorna il problema dello spazio aereo ecco che noi dobbiamo essere già pronti aver dettato ha messo in piedi delle regole perché non ci sarà più bisogno di dividerci soltanto dagli aerei che volano nelle aerovie ma dobbiamo anche capire come questi vettori che rientrano dallo spazio vanno a mischiarsi con tutti i velivoli che nel frattempo tra velivoli senza pilota e velivoli con pilota andranno avanti e indietro per il cielo nazionale e perché ve lo dico? perché l'Italia è una penisola nel Mediterraneo e ha delle condizioni geografiche ottimali per creare quelli che si chiamano spazi porti creare questi spazi porti in Italia è un'opportunità unica dal punto di vista anche commerciale noi abbiamo il bel tempo abbiamo un mare e abbiamo quindi molti aeroporti che sono vicino al mare per cui anche in caso di lancio o di incidente l'aereo o questo mezzo può cadere in acqua senza creare danni alla popolazione capite effettivamente che in Europa questo non si può fare ecco perché noi dobbiamo essere presenti e rilevanti da subito in questo settore ecco noi stiamo lavorando su questo stiamo lavorando anche su questo e lo stiamo facendo con le università con il CNR con il centro nazionale delle ricerche con la professoressa Carrozza la presidente Carrozza che è molto molto attenta perché rappresenterà il futuro rappresenterà il vostro futuro il per chi di voi vorrà cimentarsi in questo in questa avventura quindi chiudo e vi ringrazio ringrazio ancora te Giovanni per questa opportunità il mondo è lì se non avete ancora pensato cosa fare da grandi lì è dove dovete essere e ve lo dico veramente con l'invidia di uno che ha 60 anni che non potrà stare lì ma il mio compito è quello di preparare le condizioni affinché voi possiate stare lì e non serve fare il pilota qui servono gli ingegneri servono i tecnici servono gli esperti di informatica servono esperti di intelligenza artificiale servono hacker che è una cosa che a vi piace cioè dà fastidio agli altri no? hacker perché capite perfettamente che è tutto un mondo tecnologico completamente da esplorare completamente da inventare e se voi e guardo l'ultima fila avete voglia di inventare avete voglia di mettervi in gioco vi posso assicurare che questo segmento lo spazio aereo è l'elemento chiave che vi potrà fare anche divertire perché è tutto da esplorare i nostri pionieri negli anni del 1920 e passa hanno inventato il volo hanno preso un aereo sono partiti e hanno detto vado in Giappone se ce vado ce bene se no pazienza mi fermo prima alcuni ci sono arrivati altri non ci sono arrivati alcuni ci hanno messo 20 giorni ma alla fine ci sono arrivati perché forza e volontà e capabilità noi quest'anno per il centenario abbiamo voluto fare la stessa identica cosa ci hanno messo tre giorni ma dovevamo farlo dovevamo dimostrare soprattutto a noi stessi che siamo in grado di poter andare da un posto all'altro in tempi rapidi e ancora una volta l'Italia è stata leader in questo settore noi abbiamo degli F35 siamo il leader in Europa su questo programma e per la prima volta un aeroplano come F35 è europeo è andato in Giappone passando anche in mezzo a un tifone perché ovviamente la sfiga c'è sempre quindi abbiamo dovuto navigare un tifone quindi gli equipaggi hanno dovuto anche rifornire di lato a un ciclone oceanico però l'abbiamo fatto perché? perché non si può mai sapere un compito di una forza armata che ha delle responsabilità di difendere il paese in interesse del paese non può stare seduta e aspettare gli eventi bisogna guardare avanti con la stessa maniera con cui chi vola guarda avanti all'aeroplano alla stessa velocità con cui quell'aeroplano vola e forse anche al doppio perché l'occhio deve arrivare molto prima dell'aeroplano ecco in questi mondi in questo mondo la vostra capacità e la vostra professionalità può essere veramente il valore aggiunto quindi vi ringrazio veramente di cuore ringrazio tutti quanti voi per per questa per questo per questo in convegno e e chiedo al CESMA nella figura di Giovanni di continuare a fare questi incontri l'aeronautica sarà sempre presente sarà sempre disponibile soprattutto quando ci sono ragazzi che ascoltano grazie inquietamente grazie a tutti 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 Grazie.